salve a tutti gli utenti oggi torno con un prodotto per il bagno per la cura di sé del marchio balea che come vi ho detto in altri video è un marchio tedesco distribuito dalla catena dm che una catena tedesca che si trova principalmente nel nord italia al momento vi parlo delle compresse effervescenti che sono quelle tipiche compresse che si mettono diciamo nella vasca e si sciolgono ho preso vari tipi perché costano davvero poco sono queste qui come sempre balea fa delle confezioni che sono davvero davvero carine e anche le profumazioni sono ottime vado a leggervi un pochettino quelle che sono le varie profumazioni anche se non tutte sono tradotte in italiano come di solito vengono tradotte diciamo dal dal marchio balea adesso vado a leggervi quindi l'utilizzo uso aggiungere l'acqua in fase di riempimento della vasca rimuovere eventuali residui dalla vasca dopo il bagno avvertenze tenere fuori dalla portata dei bambini conservare il luogo fresco e asciutto prodotto nei paesi bassi distribuito da dm qui ci sono gli ingredienti diciamo la composizione del prodotto che potete trovare comunque magari sul sito della balea allora non c'è scritto diciamo il tipo di profumazione però dovrebbe essere se il mio tedesco non mi inganna all'estratto di limone dovrebbe essere qui c'è la dicitura vegan ecco qua e abbiamo poi un altro che alla profumazione invece di cocco abbiamo quello alla profumazione del frutto della passione questo qui non ha più pallida idea di cosa sia perché non c'è scritto appunto la profumazione poi abbiamo questo qui al profumo di melograno questo rosa e poi questo all'estratto di macia sì di macia ci sono vari tipi ora non ricordo se sono solamente questi qua le profumazioni ci sono altri tipi di profumazioni e costano poco non dovrebbero superare i 50 centesimi o forse anche meno ci sono veramente vari tipi e tutte le confezioni sono davvero molto carine se non sbaglio queste qui con gli animaletti sono delle delle edizioni comunque particolari o comunque limitate non so dire bene mentre queste qui sono dovrebbero essere quelle regolari ma probabilmente mi sbaglio anche perché balea è un prodotto diciamo che sto i prodotti balea li sto utilizzando da poco quindi li conosco da poco da quando ho scoperto il dm da quando sono nel nord italia e quindi frequento il dm io vi ringrazio per avermi seguito anche in questa nuova video presentazione di prodotto e vi lascio alla prossima ciao a tutti ciao 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 ciao